Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Perù da Cesena, in programma domani alle 18.30. Partiamo subito con le domande, vi chiedo di aspettare il microfono. Dandoli buongiorno, allora sostanzialmente il girone di andata sta terminando, non manca solo il Perugia, ma in effetti le hai incontrate praticamente tutte, hai incontrato in particolare anche quella che senza la quale a questo punto saresti in fuga solitaria con diversi punti sulla concorrenza. Ecco, che considerazioni hai tratto a mente fredda dopo aver incontrato quello che in effetti ci sta dando più fastidio di tutte? Questa squadra è superiore a tutte, come in effetti la classifica sta dimostrando, perché lo dice, che sei in testa con due punti di vantaggio, oppure hai trovato davvero quella squadra, la torre, cioè che può davvero fino alla fine dare fastidio e costituire l'avversario che non ci aspettavamo, perché purtroppo è lì. Innanzitutto aspettiamo quella di Perugia per vederle tutte, poi per il resto ne abbiamo visti abbastanza. Siamo primi in classifica, io dico sempre che la classifica non mente mai, oggi siamo in testa della classifica e ci vogliamo rimanere. Sappiamo che non sarà impegnativo rimanere in testa, quindi bisogna rimanere sempre concentrati, sempre e crescere ogni domenica. Siamo usciti dalla partita con la Torres con sensazioni molto positive, tranne i 10-15 minuti dove la Torres ha sfruttato bene quelle che sono le sue caratteristiche principali di seconda palla, di aggressione, di ripartenza, su errori soprattutto nostri, nel resto della gara credo che il Cesena abbia dimostrato la sua forza, quello che ha fatto fino ad oggi, creando tante occasioni, abbiamo trovato un portiere molto bravo che ci ha negato due o tre situazioni importanti, qualche dubbio sul gol annullato, una pressione costante nel secondo tempo dove, tranne il cross del gol, loro si sono affacciati poche volte nella nostra metà campo, contro una formazione che oggi sta a due punti da noi, che sta facendo delle cose importanti. e questo ci deve dare ancora più consapevolezza. Detto ciò, domani abbiamo un'altra partita con una squadra che è costruita per ammazzare il campionato, una squadra che è stata rivoluzionata poco da quella formazione che l'anno scorso ha fatto la Serie B e quindi l'attenzione deve essere ancora più alta. C'è una variabile, come nel calcio ce ne sono tante, tra partita e partita o durante la partita del cambio dell'allenatore, quindi ancora di più la nostra concentrazione, la nostra attenzione deve essere massimale, perché vogliamo continuare nel nostro percorso, siamo cresciuti tantissimo, facevo l'esempio oggi ai ragazzi di qualche calciatore che non faccio il nome, per non sminuire gli altri, quanto è cresciuto dall'anno scorso, quanto stiamo crescendo e quanto possiamo crescere ancora. Buongiorno mister, donati di tutto Cesena, a proposito di Perugia, giustamente ha detto che è una corassata, era stata una squadra costruita per vincere il campionato, ecco, che cosa non è andato in questa prima uscione d'andata, secondo lei? Io mi devo preoccupare di quello che il mio lavoro dentro il Cesena, la mia squadra, dove la posso migliorare, poi non conoscendo le dinamiche uno non può neanche giudicare, noi dobbiamo essere concentrati su noi stessi, perché, ripeto, domani deve essere alta la concentrazione, l'approccio alla gara, perché dopo un cambio d'allenatore, dopo qualche stravolgimento, ci potrebbe essere una reazione dove tu devi essere pronto, e noi non lo siamo, perché in queste 18 partite abbiamo dimostrato che ogni partita sei pronto per affrontare qualsiasi variabile. Leoni Teleromagna, eccomista proprio sul Perugia, le chiedo una battuta sul nuovo allenatore Formisano, che è il più giovane d'Italia. Io l'ho guardato in funzione della partita, sono andato a vedermi qualche partita della primavera, ho visto l'intera partita che ha giocato con il Cesena qui a Cesena, poi è normale che è un contesto diverso andarsi a rapportare con una realtà diversa, come quella della prima squadra, è diverso, quindi l'abbiamo studiata anche in questo senso, senza tralasciare il minimo dettaglio, il minimo particolare, che potrebbe essere determinante per la partita di domani. Luca Alberto Montanari, buongiorno mister, ti chiedo banalmente come si è allenata la squadra, come state? Naturalmente immagino che sia Adamo che possa rientrare, che sarà a disposizione regolarmente e altro insomma. Ma la squadra si è allenata bene, come ogni settimana, concentrata, determinata, perché i ragazzi sanno che questo è il momento di dimostrare i numeri che hai fatto, che meriti di stare perché non mentono mai i numeri e le classifiche, e di volerci rimanere. Quindi c'è bisogno di allenarti sempre con massima concentrazione, massima attenzione, perché, ripeto, questa squadra è cresciuta, sta crescendo, ma può ancora crescere, ma non solo nei giocatori giovani o meno giovani, ma anche il 35enne, il 36enne, se è concentrato e lavora ogni giorno sulle cose che può migliorare, soprattutto dal punto di vista mentale, dal punto di vista dell'essere sempre attivo e concentrato, può crescere ancora questa squadra. Io mi collego proprio a questo, perché tu spesso parli di crescita ancora possibile, no? Sei già su un piano di assoluta eccellenza, insomma, sei in testa alla classifica e stai dimostrando domenica o turno dopo turno di meritare la posizione. Ecco, non ti chiedo chi sia stata la sorpresa negativa, perché non me la dirai mai, però qualche sorpresa positiva sicuramente all'interno dell'organico tu l'avrai avuta e qualche nome lo devi fare, qualche giovane, insomma, qualche duro il quale magari ti ha dato di più di quello che ti saresti aspettato all'inizio del campionato. Ma di chi ha dato di meno nessuno, perché vedo il gruppo lavorare con grande disponibilità, con grande voglia. poi è normale che ognuno passa dei momenti in cui la continuità di giocare o di avere la verifica settimanale lo può un pochettino abbassare il suo rendimento, sia a livello mentale, perché poi la partita ti dà la giusta adrenalina, la giusta tensione da affrontare. però per il resto nessuno è andato sotto le aspettative che ci avevamo prefissi all'inizio del campionato. la scuola è cresciuta tanto, perché sia i ragazzi, perché è un percorso che nasce l'anno scorso, la passata stagione, anche i ragazzi che hanno iniziato a esordire l'anno scorso, altri calciatori che sono cresciuti in modo esponenziale, sotto l'aspetto della continuità soprattutto. ma le conferme anche dei veterani, anche la crescita, perché nessuno magari si aspettava che De Rose potesse avere un rendimento uguale o maggiore di quello della passata stagione, la conferma dei giocatori cardini o leader di questa squadra, il giovane era normale che dovesse crescere, perché c'è una grande disponibilità, una grande apertura al miglioramento del lavoro da parte dei ragazzi, poi le qualità ce l'hanno e quindi è normale che sia. Ma vedo anche i ragazzi, i De Rose, i Prestia, i Silvestri, i Varone che ci hanno un'età un pochettino, non si limitano alla prestazione, ma soprattutto vanno dentro al miglioramento giornaliero e questa è la cosa che mi fa più piacere. Un altro attestato di quanto bene state facendo quest'anno, non è solo la classifica, ma anche il fatto che in un giorno il settore ospite di Recurie è stato riempito. Assolutamente, ma questo è il nostro termometro, a volte è anche questo, di come stiamo facendo il nostro lavoro e quanto bene lo stiamo facendo, che dobbiamo farlo ancora meglio. Avere lo stadio pieno contro la Torres, avere il settore ospite già sold out dopo un giorno, vuol dire che credono in te, sono contenti del lavoro che stai facendo, di quello che sta dimostrando in campo, a prescindere dal risultato. E questa è la cosa che ti fa percepire che devi continuare su questa squadra, devi insistere su questa strada, perché puoi ancora crescere. Ecco, poi manca un mese, però la notizia di ieri della chiusura della curva con il Ponte d'Era, quella magari ti ha un po' infastidito. Tanto pensiamo di essere contenti di avere tanti tifosi oggi e domani a Perugia, poi col Ponte d'Era ci penseremo. Grazie.